fiamma presente stufa due restauro due restauri perfetta e non sapevo che sia si apriva il tiraggio dell'aria lì adesso che lo so adesso bisognerebbe fare una griglia qua qui booster prossimo video griglia booster stufa legna anzi caminetto antico bocca antica lumini tazze per desig e questo è siamo la sera fuori fa freddino fuori inverno dentro estate e che fiamma wow video replay wow video wow video natale io mi sento natale babbo natale ciao babbo natale buon weekend